13 militanti dell'organizzazione ambientalista Greenpeace sono stati arrestati in Francia dopo aver bloccato per molte ore un camion che trasportava il coperchio dal reattore di Flamanville. Alcuni di loro si sono incatenati al camion fermo nei pressi di Cain. Greenpeace denuncia la mancanza di sicurezza del coperchio destinato al reattore nucleare in costruzione.